Buonasera, io sono Marco Ceri, fiorentino, ce la tengo a dirlo e Ceri stesso dà il nome alla casata perché erano i fornitori ufficiali di candele della famiglia Medici di Firenze. I discendenti, oltre a fare le candele, hanno fatto anche scarpette da ballo, sempre per i Grandi Ducati Toscana. Cosa interessante da descrivere il mondo che si viveva, cosa si viveva al tempo in Via dei Serragli, in San Frediano e dintorni. Ci si conosceva tutti. Gli ingegni più interessanti del tempo. Veniva fatto di tutto, da gioielli, dal legno, dalla doratura, dalle decorazioni. E uno si passava da un'esperienza da uno a un'altro. Il locale era mal messo, bello, ampio, anche troppo per iniziare. E era stato anche alluvionato, quella dell'alluvione di 66, sicché non si presentava, a parte la grandezza e lo spazio, molto bene. Insomma, io piano piano ho arredato, ho portato i materiali e è partito subito con successo. Gli clienti sono venuti, persone importanti hanno chiesto quello che si poteva realizzare e così è iniziata l'attività.